ehi la ciurma io sono mazietest e benvenuti in questo nuovo episodio di expeditions roam continuiamo da dove c'eravamo lasciati allora io qua no non voglio usare le vende siamo poi in una situazione del mengoli perchè allora a quelli non possiamo farci nulla questo può arrivare qua e fare del danno per cui forse meglio che lo facciamo però c'è gente a quello la c'ha l'armatura per cui io farei così cos'ha e lui che c'è il raggiungi ma non gli ha tolto la due armor shred forse perchè se ho lo scudolo non gli fa niente ma porca miseria a saperlo le frecce hanno armor shred mi sa di no ah però guarda meglio così così lui ottimo e poi può ancora andarsene in giro perchè se si sposta di la è un macello poi cosa c'è? niente è solo un facciamo che però di kill anche per siti target con un'azione singola sprecandola vabbè è fuori spero no no forse no qua si allora lei ma cosa facciamo fare? non arriva da nessuna parte quindi Ah, non riesci a vederlo, però potrebbe... Pagli un taunt, quindi... Vediamo se ha senso, se poi ci focusa per lanciarci altre schifezze, mi sa che non è che conviene così tanto, però... Questo può fare niente, può fare... Questi sono avvelenati, non avviene neanche curine di nessun tipo. Questi non si possono spostare perché sono alleati. Ma lanciare un pilum mi sembrava abbastanza inutile in questo momento. Eh, qua sono... Ottimo. Già, non è successo niente. Ok. Qua almeno hanno preso fuoco. E le cose sono state abbastanza distrutte. Allora, farei anche un fuoco qua sopra, magari, allora. Un fireball qua sopra. Così muoversi dovrebbero muoversi. Ci sono questi qua che stanno arrivando, che non so se ha senso. Allora, farei un fireball qua. E uno stone qua dietro. Mentre invece con questa, farei un scattershot qua. E uno scattershot lo farei qua. Vadi. Nooo, perché si sposta adesso. Era quello che volevo, comunque, con il taunt. Ho resistito al... Ovvio che si sarebbe però amassi. Aia! Ma quello è già quasi morto, scusatemi. Aia! Mi ha tolto pure l'armor? Perché solo Yulia non tolgo l'armor? Ma perché resistono di tirare il veleno a tranne i miei? Cavolo, mi ha tolto addosso Yulia. Aia! Ma sei scemo! Ma sei scemo! Una porca pupazza! Lo muovo qua. Mi faccio un trust. Dove hai avvelenato il peccaso? No. Eh, può succare questo? Ma c'è che utilità? Devo provare il quick su questo per forza. Eccala. Però ero obbligato, scusatemi. Cioè... Questo può tankarsene due. Non credo proprio. Facciamo Inspire. Così fa ancora meno che mi niente. Scusate. Però aspetta, questo c'ha? Vai. Ok, così mi avrei dato un'azione ancora. Eh, andiamo su questo. Ok, critico. E tu muovi qua, please. Non è da stare più vicino agli altri. Allora, lui... Potrebbe seccare questo e poi spostarsi sull'altro. Oppure potrebbe seccare questa. Mi vado ad andare a bruciare i fuochi. Per cui è meglio che vada su... Allora. Ottimo. Allora. E corre in su. Gli altri tutti daranno male, probabilmente. Forse. Non lo so. Riusciamo a sfoltire qualcosa? No. L'unico che può usare i giovellotti è lui. Che può solo usarlo per... Uccidere quell'altro. No, oppure in realtà potrebbe venire qua. No. Vai a seccare la ricerca. Mi resiste con uno. Ma vaffanbrodo. L'affortuna si deve avere sanguinamento, perché sennò. Adesso questi mi arrivano tutti lui in faccia. No. No, che resta l'altro. Vabbè, va sempre... Ok, solo quattro di vita. Giusto, mi ridà una cosa. Lui mi insegue e ci sta, ovvio. Ok, allora Questo cos'è che c'è? È avvelenato, sì E per che cavolo posso farti? Allora, avrei bisogno di tirare giù questo Please, perché è proprio un rompino Allora, starei qua e gli farei L'armor shred Lei cos'è che ha? Ok, ok, almeno è giù per terra Buono Che posso fare, allora Tiriamo giù questo Bene Lui che cappero fa Che è lontano dal mondo Avvicinati in qua E lei anche non lo può fare Allora, avvicinati qua Lui può Ma lui non ha più vita, praticamente All in All in però fa un fracco 12-21 Ok Ottimo Così posso andare Farmor shred No, però il problema è che sono in mezzo Non posso Ma c'è il tizio giù per terra Però non posso farlo Però questa Non Chiede solo il focus Per cui Lei non ci arriva Ve lo raggiù? No Mi restano quattro turni Per bruciare i ponti? Capperina No, tu resta là Non è molto afferma Dei nera Qualche tu puoi fare Fare taunt Puoi fare frightened Dai Fai di spaventarli E lui che tu puoi fare Corno No C'è paura di colazione No Ok Non è spettuto niente Da perché siamo ingaggiati ovunque Forse un'altra quella non è che può andare molto In giro Che si fa? Forse ho ancora un fuoco E lo metterei qua Così clicco e stringe a venire Prima aspetta Poi Fuoco Va bene Così Proviamo una bella trappola Questa è una bella trappola dai probabilmente non gli farà un inferno di fiamme poi ci si ritorgerà contro di sicuro ma ci stanno minando da soli fortissimi ahia ahia ma che non dobbiamo proteggere quell'area ma che area non esiste quell'area ma poi perchè te ne vai? li dobbiamo proteggere quest'area e qui te ne vai quasi stai spandendo a poco forse vende che mi allontano nooo scemo che ti pigli tutto in faccia adesso non vedi l'ordine delle catapulte? no scemi sono pazzi grazie mi ha curato abbiamo solo 4 turni però per dar fuoco ai ponti non posso andare con lui da solo ah vediamo gli altri cosa fanno intanto allora con questo direi di fare una bella doppietta doppietta no non ci arriva? non ci arriva oh scappa di qua ehm bestia non ha fatto niente per cui ah no perché è quello lassù in cima lui non riesce a vedere niente né di qua né di là e non ci treppo comunque e osculo dietro e osculo dietro ho finito i giallocchi poi ma no questo era fortissimo perché non l'ho fatto prima avrei potuto risolvere il tutto può ancora muoversi? si può ancora muoversi taglie beh no vabbè non ha senso farlo adesso ah lui è qua nella cacca abbastanza no non è più giverotti ah perché ho usato la torcia non posso usare un altro oggetto mi credo che se vado in là ci sono tutti addosso quel cavolo faccio non posso andare in là da solo devo correre di qua dai quello è scudato non può correre così tanto ah ci hanno visti ah ci hanno vinto Non si ammessi bene? No, no, no. Eh, scusami Calida, ma qua non è che siamo in una situazione proprio comoda dall'altro lato. Sai che ci sono la metà di mille persone, eh? Non so se lo sai, ma sappilo. Tu vai qua? Ho paura che si prenda dei danni dopo. Eh, oh, ci proviamo. Non aspetta, forse lei può muoversi, sì, lei può muoversi. Quindi facciamo che... E si sposta un attimo. Giulia può star qua, Serena. Ah, ma no, ma quello non lo vede. No, torna qua, scusa. Quello va giù. E poi proviamo un quickshot qua. Oh, ovviamente li tiriamo giù proprio quando ho scatenato l'inferno di fuoco e fiamme. E... Poi spostati, sì. Tu vai qua e fai che... No, c'è un tizio da sotto, volevo... Vabbè, niente. Abbiamo tutti un sacco di movimenti, ma per fare che cosa? No, aspetta il... Yeah, sono tutti felici. E' buon. Cos'è che facciamo? Sono tutti... Tutti. Possiamo solo prepararci magari un po' meglio. No, no, va bene così. Tu, tu, avvicinati. E' buon. Ovviamente ho chiamato l'inferno delle catapunte là. E' buon. E' buon. E' buon. E' buon. E' buon. E' buon. No, sta la grande partita che lo sto sudendo? Non lo so. E' un scattershot. Un scattershot. Uno stone. E' buon. E' buon. Idem. Così. Non sono così felice di arrivare. Adesso ci andranno gli alleati. Quanto ci scommetto. 26 minuti. Non mi sa che devo interrompere. Ma speravo di riuscire a chiudere questo. Ma... Sono tutti in contemporanea. A differenza di quanto avevo pensato in... Primo luogo. E fare una battaglia su... 3 episodi. Boh. Comunque tanto penso che... La perdiamo. Perché i ponti... Abbiamo solo più 3 turni. Questo è ancora lo sciamano. Quello che abbiamo tauntato prima. Bravo. Dai che si è tutto bene. Quello che ci crepa di catapulto. E' che lo sapevo. Ci andavano delle leate. Ma sei scemo. Andai in mezzo al fuoco. Aspetta un attimo. Eccoli tutti i lavori pronti per la catapulta. Allora. Che cappero facciamo mo? Abbiamo solo 3 turni. Eh, te pareva. Nooo. Dovevo usare l'altro. Però adesso mi prendo... Eh, tiro opportunità. Però ne ho bisogno perché devo andare a liberare quest'altro qua dietro. Perché sennò che cavolo... Oh, tiro un calcio. E poi scappa fortissimo per forza. E avete fatto? E correte fortissimo qua. Sembra l'unica. Non so che cavolo fare. Ah, quello è una furina. Però proviamo. Dovremmo. Ah no, se è avvelenato non posso curare. Ma... Ma che? No, è persa. Come facciamo, scusatevi? Ce li abbiamo tutti morti. Poi ne abbiamo ancora 12 addosso. No, infatti non è stato sfondato il ponte. Cioè, uno si... Credo. Per... E... E mo? Veduti qua in attesa. Ah, in cover se mandassi questo? No, no, non posso. Pronto. E... Andiamo qua a dare per provare a colpire meno a quello. Ah, sicuro che prendoci in panico, va bene. E... E buon, fine. E ci avrei scommesso. E ci avrei scommesso. E ci avrei scommesso. Va bene. Quella comunque è donna della partita. Vai, quella è in su, così almeno... Prova qualcuno da attaccare. Però ho due turni per tirare giù. Come cavolo faccio? Ma posso sfruttare la corsa illimitata? Però la corsa illimitata non può mai fermarsi nel mezzo. Devo comunque arrivare al fuoco e prendere la torcia. E mi ha anche un'altra parte. E mi ha anche un'altra parte. E mi ha anche un'altra parte. Mi ha anche un'altra parte che ha già la torcia. Perché vai là? Abbiamo qualcuno che ha già la torcia. Paltrops. No. 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 Lui è che se li mando tutti qua mi si raggruppano tutti la e non passo mai più. Posso sfruttare l'inspire magari, se faccio l'inspire può arrivare ancora la ma ci muore comunque nell'intento. Lui non può autocurare delle bende ma non può curarsi. Guardate lui è quello che è la maratona. Però ci sono tutti degli attacchi d'opportunità quel cavolo fa. No è persa per forza. Oh raga continuo il video finchè non la perdiamo tanto tra due turni è andata. Stiamo dando a quello tanto perno. Ah che fastidio! E' meglio che lo muovo qua dietro. Ciao è morto. Anche lui. Ma hai raggiunto la strategia del muovere per... Cioè di tenere quelli veloci che muovono in movimento rapido. Però è davvero... infatti cioè come cavolo fai? Guarda sono i 10 milioni di qua. Noi! Vieni, stai! Vieni, bambini! Spiduio la piazza! No, vai tu a fare il kille on ground Dov'è Yulia? Yulia riesce a prendere qualcuno Quello è scudato Quello non lo vede Fai su questo Niente Vieni qua Quanto è persa E' quello il problema E che forse la squadra più forte Era poi quella Inutile insomma Cioè perché questa qua Era la squadra Che ho detto Vabbè Devono fare l'attacco principale L'attacco principale Cioè Però invece no La squadra che doveva essere forte Era quella di quelli Però Però Come faccio a farla meglio Sta roba qua Non ho neanche idea Di come poterla Gestire meglio di così Sono davvero troppo pochi Quattro turni Anche avendo gente Che è già torciato Qua sono tutti che cadono Come mosche Quattro turni Quattro turni Quattro turni Grazie. Che c'è la corsa infinita? Quello che è crepato. No, lui. No, quello che è crepato. Ma no! Vabbè, lo senti. Avrei potuto giocarmi tutti i tiri di opportunità? Aaaaaaah. Ed è perso, bestia. No, si pide l'attacco di opportunità, lui. Quello l'ha usato, poi non c'è più niente. Ma vaffanbrodo, ma vaffanbrodo, davvero, mi dà fastidio sto gioco. Va bene. Ciao, ragazzi. Grazie della visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.